Lo avevo in pugno, questa volta però la mia arma non era un coltello, ma la verità. Abbiamo avvistato un barcone di clandestini, che cosa va a fare? Passo! Voto Pesca Santuzza, rimanete in zona e se ne si è portata ottica l'imbarcazione, mi raccomando non afficcinatevi ai clandestini. Preparati salvaggio, io gendarmero non ne l'ho assato mai, a moneta. Sale cantando la nocce, desde l'ode Valderrama. E dentro pure temblo, il bombo con l'agua guala. 8-10 anni di politica dell'odio, noi abbiamo visto una destra molto feroce, un attacco molto feroce, abbiamo visto specialmente anche da parte di alcuni membri del governo che si potevano permettere di insultare gli immigrati gratuitamente alla televisione pubblica. Questo accade solo in Italia, perché in qualunque altro paese verrebbe denunciato. C'è questo clima, un clima di intolleranza. Io dicevo, ho paura della crisi, perché la crisi aumenta le tensioni sociali. E su questo la politica è stata latitante. Sono lì, no, questi immigrati li dobbiamo integrare, integrare, però più di questa parola integrare non fanno niente. Noi abbiamo i figli nati qui, dove sono considerati stranieri. E l'altro giorno anche a Torino è successo quel che è successo. A questo punto queste persone possono approfittare di un clima molto avvelenato per fare questi atti di barbarie. E' veramente, quello che è successo oggi è veramente drammatico. Se uno se pone a cantare, un cochero lo accompagna. E in cada vaso di vino, tiembla il lucero del alba. E in cada vaso di vino, tiembla il lucero del alba. Canta por la medianoche, llora por la madrugada. Andra por la medianoche, llora por la madrugada. Fratelli miei, Lucella del alba. Noi meritiamo la sventura. Troppo a lungo la nostra città è venuta a patti con il male. Era sufficiente pentirsi la domenica. Sicuri della misericordia divina. Sono io il più grande traditore. Non ce ne sarà mai uno più grande. Chi solo oserà pensare alla fuga sarà squartato in 198 pezzi. Lo ridurremo a una poltiglia sanguinolenta Che spalmeremo sui tronchi della zattera. Se io, Aguirre, voglio che gli uccelli cadano fulminati, Gli uccelli devono cadere stecchiti dagli alberi. Sono il furore di Dio. La terra che io calpesto mi vede e trema. Da Italia, andate a lavorare! Mi mio padre c'è paura della Lega Lombarda. Lui è napoletano. Allora pensa Bossi, Umberto Bossi. Allora c'è paura. A parte il fatto che poi mio padre non sa che Bossi invece sta in disgrazia. No. Lui è stato quasi espulso dal partito. Dalla Lega Lombarda. Dalla Lega Lombarda. E' successo una cosa. Avevano fatto una riunione, era la Lega Lombarda a casa di Umberto Bossi, no? Sì. Allora a un certo punto si è fatto tardi. Dice, allora Umberto beviamo una cosa. Sì, guarda i bicchieri dove stanno? Stanno là sotto. E andate a cercare il bicchiero, un altro era la Lega Lombarda. Mentre cercavi il bicchiero è caduto un pannello, una cosa. Hanno trovato un 45 giri di Peppino di Capri. Sa da quanti anni sta su cosa? Io non lo conosco. Invece sulla copertina dietro stava Umberto con simpatia Peppino. Quando? Alla fine siamo un po' tutte vittime. Alla fine, gira e gira, siamo tutti vittime. Loro scappano perché c'è la guerra. E noi dove, da Lampedusa perché dobbiamo scappare. Che abbiamo pure il disagio. E quando scappiamo dove andiamo? Che già tutto il mondo è tutto pieno di queste signore. Io penso che loro scappano perché sarà che vogliono trovare il meglio. Ma è il meglio. E il meglio non ce l'abbiamo più nessuno. È il meglio. E il meglio non ce l'abbiamo dove. A 6-vu riche nelle cose non ci hanno diverso. Ma non ce l'abbiamo Просто! Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione